Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. E Firenze Scandici sempre verso Firenze. Per le statali sull'Aurelia rallentamenti per una perdita di carico circa 3 km prima di Livorno centro in direzione nord. Per la viabilità cittadina a Firenze è riaperto oggi il tratto tra Lungarno, Torrigiani e Via De Bardi. In Borgo San Jacopo senso di marcia verso Piazza dei Frescobaldi. Muoversi in Toscana Info in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie per la visione!